La globalizzazione è evidentemente una cosa che non la possiamo fermare, ma ha un impatto molto grande e io credo che al di là di tutta la politica che il governo fa, è responsabilità di ogni cittadino per fare un po' su tutto questo e non solo sulla globalizzazione, ma su tutti quei problemi che stiamo avendo adesso. Per esempio, parlando del countdown, il cibo, che in Italia è molto importante, perché voi avete una... non solo si mangia perché piace, ma si mangia con stile, con tradizione, il territorio, eccetera. Allora, io credo che è importante fare un po' il link con questo. Diciamo, il cibo, il settore del cibo e tutta la sua produzione più o meno contribuisce con 26% a delle emissioni globali nel mondo. Allo stesso tempo, sicuramente il cibo è fondamentale per tutti i paesi, tutte le agricoltura. E lì la globalizzazione ha un problema, che adesso stiamo cominciando a mangiare un solo tipo di mais del stesso colore da per tutti i paesi del mondo e lo stesso con tutto. E questo è un risultato della globalizzazione. È buono? Non è buono? Per noi non è buono. Perché? Noi siamo, come tutti i risorsi, noi siamo una parte, un membro di questo pianeta. La natura è stata lì, noi siamo venuti, ma noi non stiamo rispettando a tutti i membri di questo mondo, come gli animali, le piante e tutti. Lì fuori c'è una biodiversità molto grande. È per quello che ogni paese aveva il suo proprio cibo, aveva la sua forma di mangiare, aveva i suoi prodotti, eccetera. Adesso, perché sempre stiamo cercando di guadagnare di più, sempre stiamo vedendo il business su tutto, stiamo provando a fare mangiare a tutti lo stesso. E quella è una cosa che noi siamo incontro. Perché? Perché va incontro anche della natura. E io credo che tutti i problemi attuali sono perché noi non rispettiamo la natura. Le soluzioni sono nella natura e noi dobbiamo fare un mimic della natura per fare e trovare le risposte. Allora, se produrre il cibo contribuisce il 26% alle emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico. Il clima cambia naturalmente, però noi lo stiamo facendo più veloce. Questo percentuale di emissione sono per produrre il cibo, però dopo viene il spreco del cibo. Il 30% del cibo che si produce per mangiare viene sprecato. Non solo da ogni persona che è al tavolo e forse non mangia e dopo lo vuota, però la catena del supermercato perché c'è la scadenza, eccetera. E questo genera ancora emissioni, tante emissioni. Che vuol dire? Che per produrre un chilo di qualche cibo ho bisogno di acqua, ho bisogno di nutrienti che sono nel suolo, ho bisogno di un investimento fertilizzante e questo quando la industria produce fertilizzante fa emissioni. Allora è tutto un circolo. E quello ovviamente ha un impatto economico perché più o meno con questo spreco si perde 750 miliardi di dollari all'anno. Allora è tanto. Solo in Italia sono 13 miliardi di dollari che si perdono per l'espreco. Ma da dove viene il cibo? 95% del cibo è prodotto nel suolo. E adesso solo in tutto quello del countdown e tutto non abbiamo sentito quasi mai una soluzione che è il suolo. E le 640 più o meno in la vegetazione, in la foresta, il suolo è nel primo 30 centimetri a 694. Se andiamo a tre metri abbiamo 2400 gigatonni. Che vuol dire? Che se noi non facciamo un buon uso di questo suolo, tutto questo carbonio può andare all'atmosfera. E lì staremo parlando, non staremo parlando, saremo piangendo. Perché veramente sarà un cambio drammatico. Allora, quando tutti parlano di decarbonizzare l'economia, una soluzione molto pratica è recarbonizzare il suolo. Perché con tanto uso che si hanno fatto nell'agricoltura, abbiamo perso tanto, abbiamo fatto tante emissioni di carbonio. Ma adesso parliamo solo del carbonio. Ma c'è un altro elemento molto più pericoloso che si chiama l'assotto, mi sembra che è in italiano. Il fertilizzante di assotto è il più usato nel mondo. E in tanti suoli non abbiamo bisogno. Però continuiamo a usarlo. E questo quando va all'atmosfera, perché quando il contadino fa l'applicazione, solo un po' rimane lì, il resto va all'atmosfera. Quello è difficile di catturarlo e metterlo di nuovo lì. Rimane lì e contribuisce a tutto quello che è la capa di ossono. Allora, stiamo parlando di una soluzione che può aiutare. Perché? Perché è facile. Di tutto questo spreco di cibo, dove va? Vanno a posti che fanno il rifiuto. Sì? E si mischia con tutto. E lì abbiamo emissioni di metano. Ancora più difficile. Però questo potrebbe andare di nuovo al suolo, come facendo un compost. Ma quello si chiama la gestione dei rifiuti. Ma non lo stiamo facendo. Allora, ce l'hanno tante soluzioni che noi possiamo fare. Ma tutti noi, tante volte, siamo un po' egoiste, perché pensiamo adesso a ognuno. Siamo individualisti, non viviamo più in comunità, non pensiamo più. E tanti diciamo che il governo, che il sindaco, ma noi dobbiamo cominciare a fare qualcosa con il spreco, evitando quello, non comprare troppo, eccetera. Perché stiamo contribuyendo di una maniera che non va bene. Allora, il cambio climatico è una realtà. La sostenibilità è molto importante, ma dobbiamo fare. E per quello tutti dobbiamo prendere un po' di decisione e azione. I contadini sono lì pronti per fare qualcosa di meglio. Ma qualcuno le deve dire, perché loro possono cambiare la forma in che fanno l'agricoltura, se qualcuno le dà un supporto tecnico, se qualcuno le dà incentivi per farlo. E così possiamo evitare emissioni e possiamo catturare di più. Quello è che stiamo provando di fare e sicuramente credo che può contribuire un po' in questa lotta. Grazie.